Come installare la app Door Entry di Biticino Per scaricare la app cerca Door Entry negli store online o scannerizza il QR code sul citofono Apri il Google o l'Apple Store e scarica l'app Door Entry Installa l'app, registrati e fai il login Prego, leggi termini e condizioni, riempi i campi richiesti e poi conferma Adesso controlla le mail perché ti abbiamo inviato la password temporanea per il primo login Ora siamo pronti per connettere il videocitofono al tuo smartphone Collega il classe 300 alla tua Wi-Fi Seleziona quella giusta e se necessario inserisci la password di rete Quando il citofono si è collegato prosegui premendo Configura Dopo un attimo il videocitofono conferma la connessione con un messaggio a schermo La app è ora pronta per funzionare